Nicola Padovano presidente, gli avvocati Francesco D'Angelo ex amministratore di Nocerina e Sorrento sempre con Mario Gambardella al timone delle società e Gaetano Maiorino in rappresentanza dell'associazione Nocerini, quali dirigenti, Pasquale Esposito allenatore, Marco Mattiello responsabile della comunicazione. Sono questi i primi punti fermi della nuova realtà calcistica delle due Nocera. Si chiama, e ormai lo diciamo da giorni, ASD Città di Nocera 1910, prendendo corpo dalla fusione tra Matteo Solferino Calcio 5 e Campagna Città di Agropoli, partecipando al campionato di eccellenza campana, vestendo i colori rossoneri e giocherà al San Francesco con tanto di benedizione del sindaco Malio Torquato. L'ASD Città di Nocera ambisce a diventare una polisportiva che accolga non solo il calcio ma anche altre discipline. Sulla strutturazione completa di questo neonato sodalizio si comincerà a lavorare da domani con altri incarichi che saranno decisi e affidati. Poi si darà il via alle trattative di calciomercato con la costruzione della squadra che verrà. Antipasto di tutto, la conferenza stampa tenutasi nella sede dell'associazione Nocerini durante la quale è stato evidenziato tutto il percorso effettuato negli ultimi mesi per tornare a far calcio a Nocera. Si è cercato di arrivare a un titolo di Serie D, in particolare quelli di Gelbison e Battipagliese senza però riuscirvi. Poi le mire si sono spostate sull'eccellenza, dapprima con un discorso aperto con la Scafatese, ma qui il patron Vaiano ha sempre posto evidenti resistenze a cedere, quindi col Città di Agropoli che in realtà è il Campagna, affrontato l'anno scorso pure dalla ASG Nocerina Calcio. La squadra per eccellenza delle due Nocera sulla carta, investita però negli ultimi anni da molteplici problemi e proprio da questo club sono arrivate le novità che non ti aspetti. Con un comunicato lampo e a sorpresa nelle ultime ore, l'amministratore dell'ASG Nocerina Calcio Silvio Cuofano, contravvenendo a quanto scritto in una nota solo qualche mese fa dove si sottolineava l'intenzione di mettere in liquidazione la società e lasciare il titolo in federazione, ha annunciato l'intenzione di iscrivere, grazie all'avvento di nuovi imprenditori, la stessa Nocerina al prossimo torneo di eccellenza, con tutto quello che ne consegue, perché l'ASG Nocerina Calcio è a forte rischio penalizzazione viste le vicende legate all'inchiesta compensi in nero a propri tesserati e perché potrebbero esserci nuove negative evoluzioni relativamente ai conti con bilanci tutti da verificare. Inoltre, non si può dimenticare che l'ASG Nocerina Calcio solo qualche mese fa ha avuto non pochi problemi nella scorsa stagione calcistica per la disputa delle gare casalinghe, perché non vi erano i fondi necessari per pagare il fitto dello stadio San Francesco richiesto dal comune di Nocera Inferiore. Ma questi sono dati, problemi tecnici su cui non ci si può ancora sbottonare. La realtà di oggi dice questo, a Nocera si va verso la presenza nello stesso torneo di due squadre diverse, con due nomi diversi, con due dirigenze completamente diverse e i tifosi chi seguiranno, chi sosterranno, come si comporteranno?